Il tempo dei Cesari rivela come non mai il meccanismo sanguinario del potere, che consiste nel ridurre a cose, o meglio ancora, a cadaveri, i perdenti ambiziosi. Ecco a voi Giulia Agrippina Augusta, nella veste di vedova e sacerdotessa del divo Claudio, che nel frattempo aveva fatto avvelenare per ottenere un potere più sicuro e duraturo. Ma lei era anche sorella di Caligola, nipote e moglie di Claudio e infine madre di Nerone. Lei è stata la donna più influente di Roma, una donna che sapeva eccedere tanto nel bene quanto nel male. Grazie a tutti.